Se la verità è che ci hanno mentito, mi hanno mentito per 15 anni, il problema che avevo si poteva risolvere in un mese, io faccio un bordello. In questo video vi parlerò di come tre settimane di digiuno, sì ho proprio detto digiuno, hanno cambiato la mia vita per sempre. Prima di iniziare questo video ci tengo a specificare che non sono né un medico né un'esperta di alimentazione. Non raccomando a nessuno di fare questo tipo di dieta senza la supervisione di un esperto. Consultati con un professionista se sei interessato a questo percorso. Perché ogni corpo è diverso e la disintossicazione che è presente in questo video è stata ideata per il mio corpo. E potrebbe essere pericolosa per la tua salute se intrapresa autonomamente. Condivido questo percorso sullo scopo informativo. Trovate qui sotto video e documenti scientifici al riguardo. L'informazione è alla portata di tutti. Infine tendo a precisare che ho sempre avuto un ottimo rapporto con il cibo, come si può vedere innumeribili volte nei miei video. E che lo scopo di questo percorso non è la perdita di peso. Conosco la mia influenza e l'intelligenza del pubblico che mi segue da anni. E che conosce bene il mio approccio alla vita. Sono una forte sostenitrice dell'unicità della nostra bellezza e nell'accettazione totale dei nostri bellissimi corpi. Se sei nuovo in questo canale ti invito a guardare alcuni dei miei video al riguardo, che lascerò in descrizione. Detto questo, sei pronto? Iniziamo! Si dice che il maestro si presenta quando l'allievo è pronto. E forse è successo proprio questo, quando durante una pandemia mondiale ho incontrato Caterina, la persona che mi ha seguito ogni giorno di questo percorso, esperta di iridologia e benessere naturale. Se ti sei perso i due video precedenti, vai a dare un'occhiata per scoprire come sono arrivata fin qui. Cosa Caterina ha trovato nel mio occhio, sì, ho detto nel mio occhio, e quando mi ha iniziato a parlare di digiuno. Il concetto di digiuno non era una cosa nuova per me. Avendo passato molti mesi a Bali, sono entrata in contatto con molte persone che hanno provato il digiuno terapeutico. E nessuno di loro se ne è mai pentito. Anzi, tutti si dimostravano entusiasti dei risultati nonostante la difficoltà di questo percorso. Perché sì, è veramente difficile. Bali, infatti, con i suoi healer e le sue conoscenze antiche, attrae molte persone che hanno compreso che siamo addormentati mentalmente, spiritualmente e fisicamente. Molti vengono qui per sbloccare le nostre potenzialità, avvicinandosi a tecniche e conoscenze che nei secoli abbiamo dimenticato. Ma questa è un'altra storia. Torniamo al caso specifico del digiuno. Dove nasce la pratica del digiuno e quali sono i suoi benefici? Utilizzata per migliaia di anni, il digiuno è una delle più antiche terapie di medicina. Molti dei grandi dottori dei tempi antichi e molti dei più antichi sistemi di guarigione lo hanno raccomandato come metodo integrale di guarigione e prevenzione. Ippocrate, il padre della medicina occidentale, credeva che il digiuno consentisse al corpo di guarire se stesso. La medicina iurvedica, da tempo, utilizza il digiuno come trattamento. E anche nell'antica Grecia, Pitagora era tra i tanti che ne esaltavano le virtù. E poi Gesù, Buddha, Maometto. Insomma, non sarei stata la prima ad intraprendere questa strada. Il digiuno nel corso dei secoli infatti si è affermato come una pratica che porta a un rinnovamento fisico e spirituale. Esistono diversi tipi di digiuno. Io in questi 40 giorni ne ho provati tre. Il primo, il digiuno intermittente, che ti permette di mangiare solo all'interno di una finestra di ad esempio 8 ore al giorno. Pratica che uso tuttora dopo la fine del mio detox. Il secondo digiuno, il digiuno di succhi, dove si consumano solo estratti freschi di frutta e verdura. E infine il terzo, il più forte e il più duro, il digiuno ad acqua, dove si consuma solamente acqua. Ed è proprio così che ho passato gli ultimi 7 giorni di questo detox, bevendo solo acqua. Ma partiamo da qualche settimana prima, quando avevo appena finito le prime due settimane del programma che comprendeva solo cibi crudi e vegani. Ed ero pronta ad iniziare la seconda fase, solo succhi freschi per due settimane, che avrei fatta al momento con il mio estrattore. Siamo arrivati alla seconda fase di questo regime di purificazione. E ho appena finito le due settimane di intermittent fasting, con il primo pasto solo frutta e noci, e come secondo pasto cibo vegano e crudo. Cosa ho notato in queste due settimane di raw e vegano? Innanzitutto la mia pelle. Non ho mai avuto una pelle così liscia. Ci sono ovviamente ancora le cicatrici, ma quelle non se ne vanno via in due settimane. Ma ho una pelle liscissima. Ovviamente con questo regime ricordatevi che sto anche facendo giornalmente la mia morning routine con yoga, movimento, Tibetan Rites. E ad ora due settimane la cosa principale che vedo è la mia pelle, quanto è luminosa, quanto è liscia. Non c'è un brufolo, per me è stranissimo. Forse sono 15 anni che non ho la pelle così. Nella mia schiena ho sempre avuto qualche brufoletto, qualche cosa, insomma, questi puntini rossi. Invece ora non ho più niente. Inoltre mi sento benissimo. Ora entrerò con questa seconda fase che sarà un po' più dura perché non mangerò cibi solidi, mangerò solo liquidi. Ma ce la faremo perché vedo il risultato, vedo che sto migliorando e quindi voglio sicuramente portare a termine la mia missione. E niente, Blood Juicing Begin. Inizio oggi con le mie due settimane di juicing. Ieri mi sono andata a comprare questo juice e sarà il mio miglior amico per le prossime due settimane. Questo è quello che ho comprato oggi per il primo giorno. È un gambo di sedano. Diciamo che sedano e cetriolo saranno quasi sempre alla base dei miei succhi. E quindi ci vogliono altri cetrioli. Ho preso questi qui che sono dei cetrioli locali. Poi ho preso un po' di mele, ho preso kiwi. Andiamo a fare il mio secondo succo della giornata. I digiuni a base di succhi vegetali rappresentano un sistema sicuro ed efficace per la pulizia degli organi interni, dei tessuti e delle cellule di tutto l'organismo. Durante il digiuno vengono liberate le tossine dall'intestino, il fegato, i polmoni, i reni, la pelle e i tessuti adiposi. Più il vostro stile di vita sarà squilibrato, più tossine sono state depositate nel vostro organismo e più ne verranno eliminate. Questo può provocare alcuni effetti indesiderati, come mal di testa, stanchezza e confiore. Proprio come è successo a me durante i primi giorni. In questi casi bisogna ascoltare il nostro corpo e dargli la pace e la calma per disintossicarsi. Allora, piccolo aggiornamento. Oggi è il giorno 2. Ieri è stato il primo giorno di juicing. Ieri mi sono sentita semplicemente un po' stanca, quindi ho sentito il mio corpo, l'ho presa molto tranquillamente. Mi sono messa sul letto, ho guardato Netflix, ho lavorato solo mezza giornata. Oggi è il secondo giorno, mi sento piena di vitalità, in verità. Mi sono già fatta un barattolo così di praticamente tre arance spremute, buonissime. Vi volevo far vedere una cosa per far capire quanta frutta e verdura mi devo mangiare. Praticamente questo è 800 ml e quindi è in circa un quarto di quello che devo bere oggi. E qui dentro ci sono 5 arance, mezza ananas, 6-7 carote, 3 mele, un po' di zenzero e un po' di curcuma. Per farvi capire, non muoio di fame sicuramente. Questo è solo un terzo di tutto quello che devo mangiare, quindi taglio di frutta e taglio di verdura. È tutto il residuo di tutto quello che ho spremuto, che andrò a buttare nel compost. Che non andrò a mangiare perché fa parte della fibra della frutta e della verdura che in questo momento potrebbe appesantire questa mia purificazione. E quindi solo solo la parte liquida. Stamattina stiamo andando al mercato di Mallambimbi e visto che non voglio essere tentata perché sicuramente cucineranno qualcosa, mi sono fatta un litro di succo, 3 mele, 2 pere e un maxi cetriolo. Spero di non tentarmi. Farmer's Market finito. Devo dire che sono bravissimi, sono finito tutto il succo e non ho avuto voglia di prendere altre cose. Ho speso in totale penso tipo 150 dollari che sono circa 70 euro per, spero che mi duri, una settimana di spesa. Ho speso 40 dollari in solo di mele, quindi 25 euro solo di mele ma sono una cosa deliziosa che mi rende proprio il succo buonissimo. Allora, diciamo che non ho avuto un po' di mal di te. Sono sempre stata abbastanza bene, però diciamo c'erano quelle 2-3 ore al giorno in cui non mi sentivo al massimo, nel senso che avevo semplicemente un po' di mal di testa e io non soffro di mal di testa, quindi ho capito che il mio corpo mi stava dicendo di rallentare, di tranquillizzarmi perché stavo lavorando tanto. Mi devo rendere conto è che sto facendo un grande cambiamento per il mio corpo, gli sto chiedendo di eliminare tutte le tossine, quindi è normalissimo, soprattutto i primi giorni, semplicemente devo prendermela in maniera più tranquilla, devo slow down un pochino. Il mal di testa è sparito ieri, è sparito ieri, è sparito oggi, non ho più mal di testa dal quinto al sesto giorno, quindi oggi sto benissimo, i succhi mi continuano a piacere un sacco, non ho fame, l'unica cosa che sento è la mancanza di addentrare qualcosa, cioè la mia conculina che non so che si fa i noodles, la zuppa di noodles con i funghi eccetera, e io sono una a cui piace mangiare tantissimo, mi viene voglia proprio di questo mangiare, questo masticare. Però andiamo avanti, siamo quasi a metà. Giorno numero 9, vi ricordate esattamente una settimana fa che era tutto pieno di frutta e verdura, ovviamente tutte queste cose sono di Federica, l'unica cosa che mi sono rimaste è il sedano, questo è il mio succo di oggi. La mattina mi sono già fatta una papaya intera, che sono circa mezzo litro, questo è il mio primo litro di carote, mela e kiwi. E cosa vi volevo dire? Ah, sono piena di energia, stamattina ho fatto esercizio, una mezz'oretta di esercizio, quando stavo ancora a digiuno, dopo aver fatto lo yoga, andò tutto bene, mi sento con le energie, mi cala un po' l'energia a fine serata. Quando sto circa verso le 6-7 del pomeriggio mi vado di mettermi nel letto e stendermi, il resto tutto a posto, continua tutta alla grande, domani andiamo al mercato per gli ultimi 4 giorni di juicing. Giorno numero 10, stamattina siamo andate a fare la spesa al mercato locale e vi faccio vedere cosa ho comprato per gli ultimi 5 giorni, mancano solo 5 giorni di juicing. Ho preso cetrioli, pomodori per farmi il succo di pomodoro che è veramente buonissimo, mele, ho trovato queste che sono enormi, papaya che me la faccio per colazione che è buonissima, una e due, e carote, arance, carote, questa volta ho preso queste che sono un po' più bruttine, C'erano che devono essere belle, l'altra volta mi sono preso quelle belle e mi sono costata di più, quindi questa volta ho preso quelle un po' più brutte. Kiwi, limone e zenzero che dà un po' di sapore a questi succo. Succo di oggi, succo di pomodoro. Giorno numero 12, chi l'avrebbe mai pensato che sarei arrivata fino a qui? Mi sto preparando il secondo succo. Mela, cetrioli, sedano, bok choy, menta e zenzero. Sono fatta, eccolo, zenzero. Giorno 13 di Juicing, stavo preparando l'introduzione a questo video dell'iridologia, di questa mia cura naturale contro l'acne e ho mandato un messaggio a Kate, la ragazza che mi sta seguendo, e le ho chiesto ma non è che quando rinizio a mangiare l'acne mi ritorna e ti dè quello che mi ha detto. No, amore, l'acne, sei acne free, non ritornerà mai più. Cioè non era il periodo, capito? Non era soltanto questo, tu ti sei, tu hai eliminato le cause dell'acne, hai ribilanciato il tuo sistema endocrino, hai ribilanciato il tuo sistema interregumentario, l'acne non torna. Trofiera, sono contenta di dirsi che la tua acne è andata. Sono acne free, mi ha detto che sono acne free, mi ha detto che ho ufficialmente superato l'acne. E il primo sentimento che ho avuto è l'essere incredula, perché mi sembra assurdo, è assurdo, è assurdo che io per 15 anni ho combattuto contro questa cosa e l'ho risolto in un mese, perché per ora è passato solo un mese, la tua testa non ci arriva. Due, poi arriva la difensiva, il mio corpo che prova a difendersi, quindi dico magari non è vero. Quindi sicuramente voglio aspettare i prossimi mesi per vedere se l'acne mi ritornerà o se veramente se n'è andata per sempre. E poi arriva la rabbia, perché ho lottato con questa cosa da quando ho 15 anni, sono andata da innumerevoli esperti, sono andata dalla ginecologa, miliardi di volte, diverse ginecologhe, sono andata dal dermatologo e tutti, tutti, tutti mi dicevano la stessa cosa. La prima cosa che mi dicevano è prendi la pillola, la prima cosa che mi dicevano è prendi la pasticchina per far passare il tuo problema. E l'ho presa, l'ho presa per tre anni, da quando ero 19 ai 21 anni. Ho preso la pillola, dopo un mese e mezzo non avevo più niente, la pelle era completamente liscia. Il problema è che però quella pillola mi dava sbalzi di umore, mi faceva sentire male, mi mettevo a piangere, mi mettevo a ridere. Ero stressata, ho preso peso, non mi sentivo più in me stessa. Così dopo tre anni di pillola ho detto basta, non voglio più far addormentare il mio problema. Aveva messo a bada i miei ormoni per quel tempo, non aveva risolto il problema. Ho smesso di prendere la pillola, dopo un mese avevo di nuovo l'acne, era tornato tutto. Però era cambiato qualcosa in me, era cambiata la voglia di far passare l'acne in un modo naturale. Da quando ho smesso di prendere la pillola ho continuato con quelli naturali che hanno migliorato la mia acne. Però non se n'è mai andata, in nove anni continuavo ad avere acne. Queste cicatrici che ho qui ad esempio sono cicatrici degli ultimi tre anni. E poi l'anno scorso un ragazzo a Bali mi aveva detto tu secondo me dovresti fare un detox per riequilibrare il tuo corpo. Ho provato a fare un water fasting l'anno scorso. Dopo un giorno e mezzo mi sono sentita male, ho lasciato perdere e sono ritornata alla vita di prima. Poi sono arrivata qui in quarantena, ho conosciuto Kate, ero pronta a provare anche perché avevo già nella testa la voglia di farlo. Ed eccomi qui un mese dopo. Mancano ancora due settimane alla fine di tutto il programma. Però ad oggi questa è la mia pelle e se la mia pelle continua a essere così, se questa è la verità, se la verità è che ci hanno mentito, mi hanno mentito per 15 anni, il problema che avevo si poteva risolvere in un mese, un mese e mezzo, per sempre. Io faccio un bordello. Giorno numero 14. Oggi è ufficialmente, già ma che giorno è? L'ultimo giorno di juicing. Ho fatto due settimane di juicing, prima ho fatto due settimane di vegano e raw. Ho ufficialmente fatto il primo mese di detox. Mi mancano ancora quattro giorni di colon cleanse e sette giorni di water fasting, di digiorno solo con l'acqua. Come mi sento oggi? Oggi mi sento piena di energie. Questa è la mia situazione corpo. Anche se non è importante il corpo in questo senso perché non ho fatto questa cosa per dimagrire, ma l'ho fatto semplicemente per purificare il mio corpo internamente. Era arrivata l'ora della colon cleanse, un mix di semi, argilla e altro che mi avrebbe aiutato a finire di purificare il tratto digestivo. Quattro giorni di solo questa pappetta, presa più volte al giorno, con molti litri di acqua inclusi, che passando per il mio tratto digestivo ed avendo una consistenza più appiccicosa, avrebbero portato via le ultime scorie che magari erano bloccate all'interno del mio corpo da mesi, se non da anni. È quello che si va ad attaccare su tutte le pareti del tuo intestino e stacca tutte le cose che sono rimaste lì, proprio per questo deve essere un po' così glui. E niente, quattro giorni di questo non è niente male in verità. Ma perché fare un digiuno? E cosa succede al nostro corpo? In parole povere, mangiamo noi stessi. Ho detto scientificamente, entriamo in uno stato di autofagia. Questo processo naturale è stato spiegato in dettaglio da Yoshinori Osumi, che ha vinto il premio Nobel nel 2016 proprio per le sue scoperte a riguardo. Durante l'autofagia, il corpo viene stimolato a distruggere le cellule tossiche e a liberarsi dei rifiuti che si sono accumulati nel nostro corpo. Il problema è che questo processo, che dovrebbe avvenire automaticamente nel nostro corpo, spesso non entra neanche in moto a causa del nostro stile di vita moderno, fra scelte alimentari scorrette e mancanza di riposo stesso del nostro sistema digerente. In poche parole, mangiamo troppo spesso e male, così facendo non diamo la possibilità alle nostre cellule di rigenerarsi e al nostro corpo di ripulirsi, sviluppando così malattie e disturbi che vanno dal cancro al diabete, da problemi al sistema immunitario ad infiammazioni. Io fortunatamente non avevo niente di grave, curo il mio corpo e ciò che mangio da anni, ma c'era qualcosa che la mia acne, che mi portava avanti da 15 anni, mi stava dicendo. Uno squilibrio ormonale, dell'apparato digerente e linfatico, per essere precisi. Così mi sono buttata in questa esperienza. Inconsapevolmente mi stavo preparando da anni a questo incontro e quando mi è stato proposto il digiuno, non ho esitato un momento. Nota bene che questo mio detox estremo non è un qualcosa che si fa frequentemente, è un detox profondo ed impegnativo che avrebbe risultato il mio corpo da anni di intossicazione. E giusto per citarli, ecco altri benefici di un digiuno controllato, anche per periodi più brevi. Rafforzare il sistema immunitario, combattere le infiammazioni, allungare la vita e prevenire le malattie, aiutare a produrre nuovi neuroni, disintossicare, rivitalizzare, migliorare l'assorbimento dei nutrienti e proteggere il cuore. Quindi perché non usare questo momento storico così particolare per fare questo grande salto? Primo giorno di water fasting, volevo essere nuda e cruda con voi quindi sono vestita così, sarò in pigiama tutti i giorni e quindi così mi farò vedere. Come è stato questo primo giorno di water fasting? Diciamo che stamattina ho avuto un po' una mini crisi, non sono stato benissimo e ho chiamato Kate che è la persona che mi segue, quindi assolutamente non fate questo se non vi sta seguendo qualcuno. Io ho chiesto se era normale quello che stavo provando, principalmente avevo mal di testa, mal di stomaco, nausea, tutto, stavo male proprio. E stavo qui sdraiata nel letto e mi è durato circa due ore. L'ho chiamata e ho detto se era normale e lei mi ha detto sì, stai proprio avendo l'esperienza delle crisi di fasting. Praticamente durante i primi giorni del fasting, e questo lo dicono sempre, le persone soffrono di queste crisi dove c'è proprio il corpo che sta eliminando la maggior parte delle tossine. Quindi il vostro corpo a tutte queste tossine reagisce così. Inoltre diciamo che anche sotto forma di evoluzione o sotto forma proprio di istinto primario, il vostro corpo vi sta dicendo qualcosa come se ora non stai bene e devi fare qualcosa a riguardo. Quindi stamattina non sono stata benissimo, è durato circa due ore e poi mi sono sentita molto meglio. Ho bevuto tanta acqua, cercherò di bere 5 litri di acqua ogni giorno per i prossimi 7 giorni. Spero di non riavere queste crisi, anche se Cade mi ha detto che è probabile che nei prossimi due giorni riavrò qualcosa del genere, perché sono i giorni in cui il corpo rilascia più tossine, i primi tre giorni. E quindi niente, quello che mi sono prefissata di fare è rilassarmi, guardare dei film, leggere un libro, meditare e non pensare al lavoro assolutamente. Domani vi ragiono di com'è la situazione, per ora tutto a posto. Giorno numero 3, è quasi finito, sta tramontando il sole e devo dire che mi hanno detto che il terzo giorno sarebbe andato meglio ed è vero, rispetto ai primi due giorni in cui ho avuto diciamo delle piccole crisi la di mattina. Oggi sono stata abbastanza bene tutto il giorno, l'unica cosa ovviamente mi sento un po' fiacca. Oggi ho camminato un po', ho fatto un po' di stretching, ho fatto un po' di yoga, ho preso un po' di sole che mi è andata un po' di energia. Ora mi faccio un'altra passeggiata prima che faccia buio e niente, continuo a riposarmi. Tre giorni andati, ne mancano solo quattro, non vedo l'ora. Giorno numero 5. Oggi ragazzi, sta una favola, non so perché, anzi invece la so perché. Oggi ho studiato oggi su come il tuo corpo va avanti durante questi giorni di fasting e stamattina ho visto che praticamente dopo un po' il tuo corpo sa che ha finito diciamo tutti gli zuccheri nel tuo corpo. Quindi quello che va a fare inizia a prendere il grasso, quello che tu hai messo da parte diciamo per i momenti di magra. E quindi da ieri diciamo che mi sento un po' meglio, però comunque oggi mi sento ancora meglio, sto andando a prendere energia dal mio grasso. Perché immaginate quando appunto i nostri avi dovevano andare a cacciare, no? Avevano dei periodi di digiuno perché ovviamente non sempre avevano la preda davanti e quindi il corpo si è abituato in quei periodi di digiuno a prendere energia da un'altra parte perché ovviamente il corpo non è che ti fa morire, anzi il corpo ti dà più energia e ti dice ok ora ti do ancora più energia per andare a cacciare un altro animale e per insomma nutrirti e per continuare. Quindi è quello che mi sta succedendo praticamente ora. E proprio anche per questo motivo per le persone che sono diciamo già magre fare fasting potrebbe non essere adatto. Quindi come sempre vi consiglio di consultare un esperto perché quello che sto facendo io, il piano che è stato fatto per me è stato fatto per il mio corpo e quindi non per il vostro e quindi non fate le cose fai da te perché ogni corpo è diverso e quello che potrebbe essere dannoso per voi magari non lo è per me o quello che potrebbe essere dannoso per me magari non è per voi. Non fate fai da te, questa è la mia esperienza che sto semplicemente condividendo. Giorno numero 7, siamo arrivati all'ultimo giorno del mio water fasting e non sapete che fame che ho oggi. Secondo me soprattutto perché negli ultimi giorni, sbagliando ovviamente, sono andata a vedere un sacco di ricette che potevo fare, ho iniziato a pensare al cibo, stamattina ho fatto la spesa, stamattina sono andata al market ho comprato tutta la spesa per la prossima settimana, ieri pure ho fatto un altro po' di spesa quindi diciamo che il mio corpo sta iniziando a capire che cibo è quasi, è il mio stomaco davvero non vedo l'ora, oggi forse sto soffrendo un po' di più perché ho male, ho fame, ho voglia di mangiare però non ci devo pensare, fra l'altro teoricamente il mio giorno, i miei sette giorni scadono stasera alle sette della sera perché sette giorni fa quando ho mangiato l'ultimo pasto era una cena e quindi io poi ho contato da lì tutte le ore che mancavano e quindi sono già arrivata teoricamente fra, non so, fra cinque ore io avrei finita sono ben 160 ore che sono a digiuno e prolungherò un altro po' il fasting nel senso che non andrò a mangiare stasera alle sette visto che già ci sono, andrò a dormire e domani mattina come prima cosa andrò a inserire qualcosa nel mio stomaco che cosa inserire nel suo stomaco dopo il fasting? questo è ancora più importante o quasi importante quanto il digiuno le prime cose che reinserisci nel tuo corpo perché ovviamente immaginate ora il mio stomaco è completamente pulito, è completamente vuoto e quindi è anche molto ricettibile quindi innanzitutto bisogna andarci con molta calma infatti il primo giorno solitamente è solo di succhi come le due settimane di succhi che ho fatto dieci giorni fa e domani sarà solo succhi anche se Caterina mi ha detto che se me la sento anche domani posso assaggiare il primo frutto sono le sette di sera quindi teoricamente sono passati sette giorni sinceramente ora voglio gustarmi il mio primo succo, voglio gustarmi il mio primo frutto proprio bene oggi si mangia poco poco però si mangia ho ufficialmente finito questo mese in mezzo di detox ora non vedrò di mangiare, di assaggiare la mia prima offerta al mio corpo prima però andrò a fare tutta la mia routine quindi bere un litro di acqua, fare yoga, fare esercizi, lavare il viso, fare tutta la routine viso e poi vado a mangiare quindi vado è arrivata l'ora di mangiare mi sono praticamente vestita come se stesse andando ad un appuntamento con il cibo sono emozionatissima stamattina ho deciso, mi ha detto scegli il frutto che ti piace di più e io ho deciso di usare il figo che mi ricorda un sacco la mia infanzia mangerò solo questo e niente volevo farvi vedere la mia reazione dopo tre settimane che non mangio niente e ho letto appunto che se fai fasting quando poi ritorni a mangiare è tutta un'esperienza nuova con il cibo questa è la prima offerta che faccio al mio corpo appunto dopo tutto questo tempo quindi assaporarlo, mangiarlo lentamente e godermelo quindi scusate lo farò un po' l'amore con questo figo l'ultima domanda ora cosa succede dopo che è finito il fasting? la mia alimentazione come dovrà essere? la tua alimentazione io spero che sarà come quella che era quando ti ho lasciata quindi a base vegetale prevalentemente se proprio proprio una sera hai la cena con gli amici e sai che quella bistecca è stata magari presa dal buccero organico grass fed bla 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 e quindi non è piena di ormoni e pieno di schifo ok comunque voglio dire sei sana anche nel momento in cui dovessi introdurre nel tuo corpo delle schifezzine ogni tanto continua a bere, continua a fare esercizio fisico continua a mantenere di base un'alimentazione corretta ed andrà tutto bene il tuo corpo sarà perfettamente in grado di processare e di eliminare quelle tossine ok quindi principalmente vedete una barra vegana sarebbe l'ideale ed ecco il risultato finale che per me è pazzesco questo è il mio viso a marzo 2020 e questo è il mio viso due mesi dopo dopo aver fatto un mese e mezzo di fasting niente pillola, niente farmaci solo curando il mio corpo naturalmente cosa ne pensate? fatto era delizioso ciao 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 ciao